amiche liberiste e amici liberisti è arrivato anche quest'anno il momento di guardarvi allo specchio e chiedervi cosa potete fare per voi stessi caro carlo cosa possono fare per loro stessi possono smentire la saggezza popolare la saggezza popolare dice che i soldi sono come i dolori chi li ha se li tiene fate il contrario esatto donate 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 i vostri soldi all'istituto bruno leoni che li utilizzerà però non per arricchire ma è stagnaro che abbiamo ormai già perso le speranze di farlo ma bensì per supportare e finanziare il progetto ibl nelle scuole che cos'è caro ibl nelle scuole il progetto attraverso il quale gli esperti dell'istituto bruno leoni vanno come volontari a visitare decine centinaia di scuole superiori in tutta la penisola per offrire ai ragazzi qualche idea su come funziona l'economia per offrire una sorta di introduzione agli studi economici sperando magari di indirizzarli in quella direzione e soprattutto per dargli gli strumenti per capire meglio il mondo così domani diventeranno ricchi e anche loro doneranno all'istituto bruno leoni allora come direbbe un siciliano caro carlo nisciti i piccioli e tu come rispondi ma soprattutto cacciate le palanche benissimo grazie a tutti